Radio Onda d'Urto Sostanzialmente da quasi una decina d'anni Propone all'interno della festa Un appuntamento dedicato a tematiche ultras Come radio abbiamo seguito in questi anni Tutto quell'aspetto della repressione Che riteniamo abbia come palestra Quelli che sono gli impianti sportivi In particolare del calcio Ma ovviamente come radio Onda d'Urto Ci siamo molto preoccupati del fatto Che questa palestra diventasse una palestra generalizzata E allargata E sostanzialmente alcune delle leggi Che in modo particolarmente repressivo Colpiscono chi sta attorno all'impianto di calcio Sostanzialmente gli ultras Vengano poi come di fatto è successo Estese a tutto quello che è il resto della società Questa sera invece abbiamo un argomento un po' particolare Un po' più specifico Probabilmente i tanto vituperati ultras Sono la parte più sana di un calcio Che vorrebbero farci credere ancora sano Tra virgolette, scusate la ripetizione Tra fallimenti, faccendieri che girano con finte Con valigette, con finti soli dentro Piuttosto che con nessun soldo Compravendita di società Falsi di bilancio Bilanci gonfiati E tutto ciò che purtroppo tutti i giorni vediamo sui giornali Abbiamo ritenuto che riuscire a parlare di un calcio Che in qualche modo si sposti da questo business Sia ancora una cosa che a noi interessa ovviamente come radio da seguire La dignità che alcuni gruppi hanno saputo portare anche nelle vicende più drammatiche E mi riferisco anche alle vicende drammatiche societarie Indicano come c'è una parte sana del calcio Che è quella che i mass media fanno finta di non vedere Noi spingevamo come gruppo, come tifoseria Spingevamo per la D Ci piaceva non essere salvati in serie B Perché comunque voleva dire dare una continuità con un modo di fare calcio Che purtroppo ci aveva disilluso e non ci piaceva più Dal momento che è successo tutto quello che è successo Dopo il fallimento a Parma c'è stata una buona risposta Il 70-60% ce l'hanno 8 imprenditori di Parma Tra cui Barilla e nomi famosi soprattutto in città C'è anche una parte di società che è il 40% che è costituita dall'azionariato diffuso Che sono chi comprazioni va a confluire in questa società A un membro nel consiglio di amministrazione E in più verrà eletto un membro dei tifosi Non solo tra noi dei gruppi così Ma anche tra il centro coordinamento dei club e comunque tutta la comunità Dentro il consiglio di amministrazione non avrà potere decisionale Ma sarà comunque un supervisore Quindi dovrà essere una persona competente E secondo me un'altra cosa che è positiva è che ogni anno viene rieletto Quindi non c'è neanche la possibilità volendo che sia corruttibile Ho fatto cantare 30 anni la curva Avrei dato da giovane ma non me ne fregava niente di morire Cioè ma veramente Cioè con un pensiero da Ultras Da quando c'è stata la tessera del tifoso Incredibile Cioè in casa in trasferta dal 74 Che andavo allo stadio Non ci sono più andato Ho iniziato a non andare più in trasferta E poi ho iniziato a non andare più in casa Questa è stata la mia storia Brutta da raccontare Però Quando anche la mia curva I miei stessi tifosi che oggi sono qua Hanno continuato a portare una battaglia per 5-6 anni A farmi cantare No alla tessera Sì alla passera Tutte queste canzoni qua E dopo hanno deciso di fare È una tessera del tifoso mascherata Quella lì Ma sì la white card Tessera del tifoso Adesso che sono andato in Serie D Riprenderò ad andare allo stadio Come me tanti Tanti vecchi Perché il calcio forse Come dicevano tutti Nasce proprio dalle piccole lecce Le realtà E poi dopo Se andremo in Lega Pro Continuerò a stare a caldo Godrò per un anno Per un anno farò tutte le trasferte Ho fatto subito l'abbonamento Subito Immediatamente Perché quella È la mia vita Come la sua vita è quella del Brescia La sua è quella dell'Ancona Allora Allora quello che abbiamo cercato di fare noi Qualche anno fa È stato proprio quello di anticipare Il fallimento Il presunto fallimento Il possibile fallimento Del Brescia Gaucho Abbiamo cercato Quindi Prendendo spunto Prendendo esempi Da altre società italiane Ma soprattutto estere Abbiamo cercato di creare un movimento A Brescia Che non dipendesse più Che non dipendesse più Dalle decisioni Di un'unica persona Che in questo caso Del presidente Era una famiglia Scellerata Quindi diciamo da anni Ma che le fortune La Brescia Dipendessero Dalla passione Direttamente dalla passione Dei propri tifosi Perché noi siamo sempre stati convinti Che i tifosi Non debbano essere Semplicemente Degli spettatori O peggio ancora Degli clienti Siamo convinti Che i tifosi In particolar modo Gli Ultras Che sono quelli più attenti Quelli più battesimi Siamo così Dovrebbero essere Sempre più Protagonisti Delle soldi Della propria società Della propria Squadra E non dovrebbero Limitarsi solamente Ai 90 minuti Della partita Ma dovrebbero Partecipare Lo ripeto Concretamente Alla gestione Alla direzione Della società Sono convinto Che se questo Fosse accaduto Anche solo In termini Di trasparenza Perché io non sto parlando Di un discorso economico Qua nessuno Sta aspirando A diventare Dirigente Della propria società Magari per Ditaliarsi Un posto di privilegio Per guadagnare dei soldi Stiamo parlando Di tutt'altro Stiamo parlando Di persone Che amano La propria squadra Che amano La propria maglia I propri colori sociali Per tutto quello Che rappresentano E che dovrebbero Secondo me Impegnarsi Perché ci fosse sempre Quella trasparenza Che invece Non c'è mai stata Perché quello Che è successo a parlo Quello che stava succedendo In questa Che probabilmente Accadrà In futuro Perché queste situazioni Sono sempre più frequenti E' proprio questo Delle situazioni Che sono nascoste Fino a quando poi Non succede Che trova tutto E questi sono i confronti Ci sentiva ancora gente Che aspettava Che calasse dal cielo Di un imprenditore Benefico Ma non esiste Non esiste Ma sfatiamo questo mito Ma stiamo scherzando Dopo tutte queste esperienze Dopo tutti questi fallimenti Dopo tutte queste situazioni Ancora crediamo Che ci sia un imprenditore Che venga A dirigere la nostra società Nei nostri interessi Ma stiamo scherzando Ci sono poche cose da fare O ribellarsi O subire Come hanno fatto Troppo in tanti A noi è venuto facile Più facile ribellarsi A posto Comunque Di mettere in gioco Lui stessi Quello che abbiamo cercato noi L'ospetto È stato quello Di anticipare i tempi Di creare questo movimento In modo tale Che In una società Come Non riuscire Non dovesse più Dipendere dai capricci Dalle pretese Dall'interesse Economici Di pochissime persone Purtroppo Non ci siamo riusciti Non siamo riusciti In primi Non siamo riusciti A coinvolgere La tifoseria Tutta Siamo restati In pochi Cioè Sono noi A credere in questo progetto E questo Ha portato A si che A se stesse Per fallire Fortunatamente Fortunatamente Oggi è nata Un'associazione Di cui non facciamo parte Ma che sosteniamo Anche da lontano Il tifosi per il Brescia Che sta portando Una ventata di novità Sta facendo Riflettere le coscienze Di molte persone Sta facendo capire Che Un altro calcio È possibile Un altro calcio Soprattutto È necessario Perché avanti di questo passo Il calcio lo riguarda Grazie 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 Grazie